benvenuti in kiwi allora eccoci ragazzi siamo in live mamma mia quanti siete quanti siete? 95 mila 95 mila allora salutele qua ci stanno 95 mila che ti stanno a guardare guarda quanti siamo guarda quanti siamo la sopra che personaggio è il tuo? diglielo che noi siamo ignoranti Riddle di Twisted Wonderland grande raga grande scrivete nei commenti quel voto gli hai dato a sto per posto seguitemi su instagram mi chiamo Sayus mi raccomando di questi 96 siamo arrivati almeno 1000 non li gotate la mia millata se basta almeno 10 10? chi si accontenta se la gode andammo a vedere gli altri cosplay quanti cosplay ci sono no? andiamone a vedere qua vedo qua vedo qua vedo un cosplayer molto particolare permesso raga qua vedo un cosplayer molto particolare questa volpe volpe guarda quanti siamo guarda quanti siamo 97 e passa no sei famoso miei coglioni sei famoso allora che personaggio è il tuo? io sono Robin Hood Robin Hood è la Disney ruba i poveri per dare ai ricchi no no ruba i ricchi per dare ai poveri ruba i ricchi per dare ai poveri tu sei ricco? io sono ricchio io sono ricchio ahahahahahahahah ma va bene tu sei un'altra volpe tu sei la questa è la è la moglie dell'altra della volpe che cosa? tu sei Lady Marian Lady Marian guarda quanti siamo 96.000 e passa che personaggio è il tuo? da dove viene? da Robin Hood da Robin Hood da Robin Hood qua l'hai fatto tu l'hai comprato l'hai rubato l'ho rubato l'ho rubato i ricchi se l'ha rubato Robin da un ricco e gliel'ha dato e gliel'ha dato e gliel'ha dato Robin Hood e gliel'ha dato e gliel'ha dato e gliel'ha dato Robin Hood gliel'ha dato andiamo a vedere un altro cosplayer che qua sta pieno di cosplayer ragazzi tu che personaggio sei tu? guarda quanti siamo saluta 95.000 ce stanno a guardare mica cazzi e quindi quindi che personaggio sei tu? sono Bishamonten di Naragami conigliato con chi? conigliato conigliato? conigliato 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 allora guarda quanti siamo 96.000 siamo salendo quindi che personaggio è il tuo? ha detto noi gli amo conigliato di Naragami conigliato 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 io ho comprato tutto ho comprato tutto ho comprato tutto ho comprato tutto ho comprato mi fai vedere la frusta ragazzi se non vi scrivete al canale te ne lebbe è frusta non so se forse vi può piacere quindi andiamo avanti a vedere gli altri cosplayer qua c'è sta un sole esagerato c'è sta pure Tony F c'è sta pure Tony F e me sta cercando c'è sta Tony F guarda quanti siamo quanti siamo che ci stanno a guardare 96 95 c'è stava un botto un botto per te sono pochi per Tony F per Tony sono pochi ragazzi ho pochi per Tony qua andiamo a vedere gli altri cosplayer che ci sono qua c'è sta un botto ma c'è un botto di luce c'è troppa troppa luce c'è sta c'è sta troppa troppa luce aspetta tu sei guarda quanti ci stanno a guardarti sono 97 ci stanno a guardarti siamo in live sono tipo quelle cose impostate quali? quelle che girano che non sono reali è tutto reale guarda i commenti che escono che personaggio è tuo? cammi di spider cammi di spider ok se voi ci avete mai giocato scrivetelo né come l'hai comprato l'hai rubato no l'ho fatto metà e metà cioè l'hai metà l'ha rubato 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 come te chiami su instagram c'è tutto nero ok su instagram banchi troppino basso GSXR come la moto che c'è troppo semplice raga una cosa troppo semplice troppo semplice te la puoi essere allora eccoli eccoli quanti mamma troppo sole si no arsole non si può fare questa cosa arsole non si può fare questa cosa mamma mia stavo a morire al sole non si poteva passare un po' di tranquillità è proprio bello, questo posto è mi piace saluta queste 98 mila persone che ci stanno metta a smontare tutto, 98 e pasta che ci stanno a guardare, salutare tutte, una per una 48 mila mica Cassi che personaggio è tuo? Arlechino l'hai comprato rubato rubato ci piacciono ci andiamo a vedere al sole non si possono stare al sole non si può stare vediamo a qualcun altro che sta quel giro che io potemo che mi posso far vedere ma comunque il sole sta scelto ne stava scelto ne stava pure a morire il telefono al sole ne stava pure a morire il telefono vediamo vediamo a chi è che possiamo andare a rompere le palle loro si stanno loro si stanno a fare il selfie e quindi noi gli possiamo da fastidio gli diamo fastidio lo stesso guarda quanti ci stanno a guardare guarda quanti siamo 99 mila e pasta che ci stanno a guardare che personaggio è tuo? è Asmodeus Asmodeus di che cosa? Dimi di Eluobost avrei detto Asbinotel invece no tu invece sei tu sei Valentino di Asbinotel allora saluta una per una le 97 e i 98 mila persone che ci saranno a guardare una per una il nome e cognome si poi raga vi faccio vedere vediamo qualcuno di particolare sta a correre qualcuno di particolare che vi posso far vedere che sta io vedo davanti a me sto lucifero che è veramente molto finco sto lucifero e veramente guarda quanti siamo contali contali una per una 98 mila me coglioni mi cacazzi salutale una per una una la e codice fiscale l'hai comprato rubato allora io l'ho comprato da Aliexpress tutto quanto il panciotto mi sono messo insieme alla mia ragazza abbiamo provato tutto quanto su Amazon i quali abbiamo presi da Shane e questo con mano d'opera l'ho fatto io mi piace quindi di rubato ancora non c'è niente no di rubato non è nulla allora sono di Napoli però non ho rubato nulla abbiamo l'unico napoletano che ancora non ha rubato nulla il mio portafoglio il mio portafoglio non lo trovo più ahahahah andiamo avanti andiamo a vedere ragazzi vediamo di trovare un bel gruppetto di cosplay così facciamo la chiusura della live allora salutateli salutateli tutti una per una che non soffendono allora dimmi che personaggio è qui Blade di Uncastle Rail tu? setto di League of Legends tu invece la poliziotta di Final Fantasy la poliziotta di Final Fantasy c'è 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 che ah vedi tu invece l'hai rubato li ho comprati li ho fatti anche ecco tu sei fatto è fatto è fatto è fatto noi ragazzi ci vediamo aspetta non mi avete detto come vi chiamate su Instagram? Dust Nicky tu ti chiami che hai detto? Dust Nicky solo Nicky Nicky passo passo cost tu invece? ciao Gian mi raccomando ti fai queste 96.000 99.000 che ci sono a guardare almeno 1000 guarda guarda i numeri si i numeri non mentono i numeri non mentono i numeri non mentono ci vediamo a una prossima live questa live sarà sempre ripostata sul mio canale mi raccomando iscrivetevi al canale ci sono carini